Mi chiamo Katia Santoro e faccio parte del forum delle associazioni malati rari campani e vorremmo invitarvi tutti alla manifestazione che si terrà il 28 febbraio prossimo a Napoli, alla Rotonda Diaz, dalle 10 alle 13, dove tutte le associazioni di malati rari faranno informazione al pubblico su dove potersi rivolgere quando si incontra una malattia rara nell'attesa di un ERN per ciascuna delle patologie interessate. Grazie. Sono Orfeo Mazzella, faccio parte del forum delle associazioni campane di malattie rare e ringrazio gli organizzatori di questo evento per averci invitato e rinnovo a tutti quanti i presenti l'invito a venire il 28 febbraio domenica mattina presso la Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo per partecipare a questa grande manifestazione che celebrerà la giornata mondiale delle malattie rare.